E in occasione del primo anniversario dell'elezione di Papa Francesco è giunta anche la riconoscenza e la preghiera della Chiesa italiana. Riconoscenza per un Magistero ricco di parole, di segni, disponibilità piena, impegno fattivo, al coinvolgimento in un cammino di conversione pastorale e missionaria, sostegno affettuoso, nutrito di preghiera e di comunione fraterna. Sono questi i sentimenti con i quali la presidenza della conferenza episcopale italiana, a nome di tutta la Chiesa che vive in Italia, si stringe attorno al Santo Padre Francesco in occasione del primo anniversario della sua elezione che è avvenuta il 13 marzo dello scorso anno.